Isaac? Isaac, riesci a sentirmi? Daina, ho trovato Isaac Clark. Ripeto, l'ho trovato... Ottimo lavoro, Franco. Fa attenzione, è rimasto fuori un sacco di tempo. Oh, sì. Bene, bene. Piano, 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 ti tireremo fuori da questa camicia di forza. Dove... dove sono? So che ora ti senti confuso. Posso spiegare tutto, ma devi fidarti di me. Ascolta, sei in grave. Franco, che cos'è successo? Dio. Isaac! Isaac Clark, se riempie sul città! Ero, ti suciez. Sochto, se riempie sul。 Second, se riempie sul città. Debra Finale? Angie, sediuto� di parma. Questa... Vinou? Di practiced. Ascolta in, sc espaço, ingedil Appreciate. Lo sc riempie sul città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ascoltami, amico. Mi importa? Ascoltami! Possiamo uscire tutti da qui. Basta, basta che mi togli la camicia di forza. Nessuno uscirà vivo da qui. Nessuno. Non parlo. Non si può fuggire da ciò che ho fatto. Sta calmo, amico. Tranquillo. Il tuo riga è rosso. È rosso. C'è una ricarica e una torcia nell'armadetto. Dovresti prenderle. Forza, vai. Prendile. A me non serviranno più. Isaac, brucieremo tutti per ciò che ti abbiamo fatto. è rosso. No. Non. Non. Sì. Sì. Il soggetto è Nolan Strauss, seduta 1-5-8 Dunque... L'occhio sembra andare molto meglio oggi, non credi? Fa male, fa ancora male Già, ti ho fissato un'altra seduta per domani No, no, io non credo di essere pronto, non posso fare un'altra seduta Domattina presto, ora parliamo di quello che hai visto oggi Avanti Strauss, voglio solo aiutarvi Sì 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 Aida, che cos'è successo? Stai bene? Perché mi aiuti? Se Talman ti trova ci saranno altri morti. Mi è compreso. Non se seguirei i miei tirali. Non comprocio. Non deve piacerti, però sbrigati prima di restare bloccato. Ataquazione finazio. Ataquazione finazio. Controllare loro, do 9. diventi più. Ataquazione finazio. Ataquazione finazio. Controllare loro, do 9. diventi più. è passione finato Grazie per la visione! 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 Evavuazione in atto! Controllare le bliche per ottenere l'uscita più vicina! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Aiuto! Aiuto! Perché sono sveglio? Ehi! Ehi! Ti ho sentito! Vieni ad aiutarmi, ti prego! È qualcuno lì? Nessuno? Qualcuno mi sente? Mio Dio! Ti prego! Ti prego! Aiutami! Ehi! 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 Mio Dio! Sono tutto solo qui! Tu! Tu! Grazie a Dio! Ti prego! Aiutami! Calmati! Ora ti tiro fuori da lì! È un laser per tessuti organici! Una lama al plasma! Mio Dio! Cazzo! Cazzo! Che cazzo stai facendo? No merda! Aiuto! Ci provo! Aiuto! Ci provo! Ci provo! No! nédi! Cazzo stai facendo! Cazzo stai facendo! È un strato! Un пол! Che cazzo stai facendo! Un po чем piacano! Un po com不用 spTC Emperor! Isaac, sono Dyna. Li dovrai smembrare per fermarli. Lo so, ho fatto molta pratica. Tu cerca di rimanere intero. Grazie. 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 Forza! Ci sono addosso! Aspetta! Chi è? Chi ci dà la caccia? Attenzione, l'opera scredizione. Il sistema di rispondimento di rispondimento di rispondimento. Isaac! Isaac! Di qua! Forza! Isaac! Oh no! No! Isaac, ti ricordi di me? A 105! A 105! Mi ricordi! Ti ricordi! Daina, il tuo itinerario non serve! C'è un blocco di sicurezza! Ti avevo detto di sbrigarti, perché non l'hai fatto? Senti, non mi serve aiuto! Bene! Vediamo quanto riesci a curare Cessa! C'è un blocco! Daina! Daina! Ok, hai ragione tu! Mi serve il tuo itinerario! Spaccami! Senti, Isaac, non siamo tenuti ad essere aiuti, ma dobbiamo restare uniti! Il tuo nemico è Tideman, non sei un'idea! Dunque, ti ho trovato a un altro itinerario! Bene! E allora dove diavolo sono? E com'è possibile un'altra fuoriuscita di necromorfi? Sei sull'attaccione Titan, in orbita attorno a Saturno! Ho fatto un vero, ho fatto un vero, ho fatto un vero, scusate! Merda! Spiderman disturba il senno! Ho! Ah! A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione. Sparare all'interruttore di bloccaggio per blocare la decommissione. Palla nello scafo. Riparata. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.